Allora, Riccardo, la mia prima domanda è che cos'è Anarumi e come è nata l'idea? Perfetto, grazie. Allora, Anarumi è un social network, anzi è il social network, che connette le persone attraverso le loro passioni, unendo i gruppi tematici che esistono oggi in macro communities globali. Come ci è venuta l'idea? In realtà l'idea ci è venuta per un motivo completamente differente, o molto differente, cioè in realtà noi avevamo bisogno di avere dei feedback sulla qualità di un servizio offerta da un e-tailer che aveva un sito web. Per vogliamo che queste informazioni non fossero influenzate da un moderatore, da qualcosa di ufficiale di quel sito, effettivamente abbiamo avuto difficoltà a trovarle, a trovare queste informazioni e ci siamo domandati, ma effettivamente se noi riuscissimo a realizzare un posto dove le persone, senza nessun tipo di moderazione, possano scrivere quello che pensano di questo servizio, effettivamente per noi sarebbe molto facile ritrovarle. Oltretutto questo posto dove la gente potrebbe scrivere i loro commenti dovrebbe effettivamente essere anche facilmente raggiungibile in modo intuitivo da noi che cerchiamo queste informazioni. E allora abbiamo pensato, ma se noi realizzassimo qualche cosa che possiamo piazzare direttamente sopra il loro sito web, sulla loro home page, dove la gente però ci può scrivere quello che pensa del loro servizio, sarebbe utile? Secondo me è partito tutto da qui e infatti la prima cosa che abbiamo provato a realizzare era proprio questo, cioè un servizio che permettesse alle persone di scrivere virtualmente, diciamo, sopra i siti web che cosa pensano di quell'azienda, del proprietario del sito web, di quell'argomento, di quella tematica. Questo qui è stata la cosa, diciamo, l'incipit. Poi in realtà è cambiata tantissimo quello che è oggi Narumi, anche la nostra value proposition è cambiata molto. Però all'inizio cercavamo dei feedback in modo veloce e non moderati. Quindi la verità, cioè condivisione con altre persone che condividevano con noi lo stesso interesse. In effetti è quello che fa Narumi. Non so se tu conosci Glass, che però era, perché adesso credo che ormai abbia chiuso, era una cosa molto simile, giusto? Allora, in realtà guarda, ci sono stati molti tentativi, ma alcuni tentativi, di realizzare qualche cosa di simile a livello estetico. Nel senso che fondamentalmente scrivere sopra un sito significa poter trasferire informazioni con altre persone che quel sito lo stanno visitando. Che è una cosa che facciamo noi, è una parte del servizio che offriamo noi. Però l'obiettivo è differente, nel senso che tutti quanti sono sempre partiti dall'idea di poter navigare insieme ai loro amici di Facebook, per esempio, ai loro followers di Twitter, la roba del genere. E quindi fondamentalmente mantenere attive delle communities che già erano preesistenti. La nostra value proposition, invece, è di far incontrare persone nuove. Cioè, sul web oggi è facilissimo restare in contatto con le persone della tua vita. La value proposition di Facebook è rimanere in contatto con i tuoi amici, per esempio. Poi dopo, se io ti chiedo quanti amici hai, in realtà tu mi rispondi, ti rispondo io, tu hai circa 1328 amici, perché l'ho controllato prima. Allora non è circa, comunque. All'incirca. Però effettivamente è molto difficile incontrare persone nuove, conoscere persone nuove. Noi crediamo che il business, nei prossimi anni sul web, sia per trovare nuove persone, e non random a caso, ma proprio conoscere persone interessanti, cioè quelle che avremmo voluto incontrare. Qual è il miglior posto, il posto più intuitivo e più facile di tutti per incontrare chi come te condivide le tue stesse passioni? Nella vita reale sono i luoghi dove tu vai normalmente, quindi se tu sei appassionata di tennis, per esempio, effettivamente al circolo di tennis tu potrai incontrare altre persone che come te giocano a tennis, farci amicizia, cioè farci amicizia, stringere una relazione che poi vi porterà magari a giocare insieme a tennis. Siccome la vita reale ormai oggi, secondo noi, coincide con la vita del web, perché effettivamente è la stessa roba, il posto più semplice per incontrare chi come te condivide le tue stesse passioni sono i siti web. Quindi, fondamentalmente, se tu sei appassionato di tennis, vedrai, visiterai un sito di un produttore di racchette, visiterai un e-commerce che vende quelle racchette, un blog che parla della qualità delle racchette da tennis oppure di un torneo che ci sarà a breve, un forum in cui ti scambi delle idee con altre persone che sono iscritte a quel forum perché sono come te appassionati i tennis e via dicendo. Che cosa facciamo noi? Noi ti permettiamo, quando vai su un qualsiasi sito, di utilizzare il nostro doc, che è un semplice pulzantino che va sul tuo browser e di entrare in contatto con tutte le persone che come te stanno visitando quei siti e che quindi evidentemente con te condividono il tuo stesso interesse per il tennis. Questo qui è il punto di partenza. Non è assolutamente il nostro punto di arrivo perché in realtà quello che secondo noi è il nostro vero valore aggiunto è la possibilità che diamo agli utenti di unire tutte queste communities che ti ho elencato, quindi dal forum al blog all'e-commerce a Bavaria, di prendere gli utenti da ognuno di questi siti e di creare una macro community globale che li racchiuda tutti quanti. Quindi, se tu sei dall'altra parte, sei un influencer, sei un blogger per esempio, per portare il traffico al tuo sito devi andare normalmente a parlare in vari canali, che sono canali sui social networks, su fare, non so, adesso ti faccio delle cose un po' infiltrazione sui forum, o comunque crearti un filo sul forum, fare pubblicità su dei siti istituzionali e roba varia. Immagina di poter prendere tutte queste, e quindi ci devi dedicare tantissimo tempo per fare queste cose, immagina di poter prendere tutte queste persone che sono sparpagliate nelle varie community locali e di poterle unire in una mega community. Quindi in realtà il tuo potere, la tua grande influenza aumenterà molto di più e il tuo lavoro sarà ridotto, nel senso che in un unico marketplace, in un unico mercato, potrai avere accesso a tutte queste persone. E lo potrai fare, e tutte queste persone potranno dialogare con te, con i brand, in maniera completamente oggettiva, libera, non moderata da pagine ufficiali. Questo è quello che facciamo. Ok, quindi per la questione di privacy, il trattamento dei dati, specialmente i dati di navigazione, come vi muovete? Allora, questa qui è una domanda che mi hanno fatto, che ci hanno fatto tantissime persone, in realtà io prima mi uccidevo per rispondere in modi stravaganti, che colpissero, in realtà tutti quelli che me lo chiedono, anche tu, sono iscritti a Facebook. Essendo iscritti a Facebook, tu hai già deciso di condividere con Facebook, quindi con un'azienda, tantissime informazioni personali, molte più informazioni di quelle che condivideresti utilizzando Narumi. e quindi effettivamente già ti è andato bene una volta, per avere un beneficio. Noi ti offriamo un altro tipo di beneficio, secondo noi veramente bello, veramente importante e di grande interesse, e quindi puoi anche effettivamente accettare di sarei Narumi dandoci in cambio delle informazioni. Il resto è gratuito, quindi è un doubtless abbastanza sensato. Oltretutto abbiamo, a differenza di Facebook, che è sempre acceso quando lo utilizzi, in realtà tu puoi decidere di accendere e spegnere Narumi quando ti pare. Quindi se tu sei su una pagina e su quella pagina vuoi ampliare il potenziale sociale di quella pagina, tu puoi trasformare in realtà ogni pagina in un mini social network. Quando decidi di farlo, ti basta premere il pulsante. Quando vai a visitare altri siti su cui non ti interessa questa cosa, basta disattivarlo e noi non abbiamo nessuna informazione su di te. Quindi, insomma, penso che sia un bel escamodaggio questo. Sì. Come modello di business invece? Ecco, questa qui secondo me è la parte che poi in realtà è la parte che è cambiata di più con il nostro lavoro, ed è la parte, secondo me, anche più interessante. Perché fondamentalmente, che cosa facciamo noi? Noi vendiamo un software di social CRM. Cioè, vendiamo l'opportunità alle aziende di restare in contatto con i loro clienti. e questa qui è una cosa che fanno tantissimi software, ad esempio, cioè... Non faccio nomi, lasciamo perdere. Però è pieno di software di customer satisfaction. Cioè, perfetto, hai comprato, sei soddisfatto. Ok. Ci sono alcuni software che permettono le aziende di gestire in tempo reale il rapporto con il cliente. Cioè, in realtà, non solo qualcuno ti permette di farlo. nessuno ti permette di fare quello che permetterà Nakumi. Cioè, noi siamo gli unici, siccome seguiamo gli utenti durante il loro processo di navigazione e li seguiamo anche quando partecipano ai gruppi, alle communities che noi abbiamo chiamato Tribes. Noi sappiamo qual è il loro processo decisionale. Cioè, sappiamo che cosa loro vogliono comprare e sappiamo orientativamente anche quanto lo vogliono pagare. Quindi, siamo il primo servizio di social CRM che permetterà alle aziende di incontrare i loro potenziali futuri clienti prima che loro raggiungano il sito web dove vogliono comprarlo. Perché se tu vai su un e-commerce e già sai che cosa vuoi comprare più o meno stai cercando il miglior prezzo. Noi invece abbiamo la possibilità di dire alle aziende guarda che c'è un utente XY cioè senza dargli un nome che però vuole comprare il prodotto e tu li puoi vendere e lo vuole pagare a questo prezzo qua. Se tu sei disposto a venderglielo ti permettiamo di contattarlo. Quindi, dalla parte delle aziende è un servizio di Customer Relationship Management pre-vendita cosa che non può fare nessuno cioè noi raccogliamo tutti i dati degli utenti li elaboriamo e li vendiamo come insights alle aziende agli detailers. Questo processo continua sul sito cioè quando l'utente arriva sul sito e si instaura una relazione di marketing one to one in tempo reale cioè più o meno quella che tu hai e che oggi manca quasi sempre sul web che tu hai quando vai in un negozio vero per la strada entri ti vuoi comprare dei jeans e c'è un commesso una commessa che ti dicono ti stanno bene non ti stanno bene ti danno il loro consiglio ti rassicurano su se che li puoi cambiare se non ti vanno bene diciamo potrai quindi prenderti clienti che non conoscevi quindi prima che magari quelli che non sarebbero nemmeno mai arrivati sul tuo sito gestirli in tempo reale e non lasciarli mai scappare con mentalmente di un'erte di sempre questo qui è quello che fanno noi e come user experience proprio lato utente sì che cosa ci si può aspettare specialmente in questo passaggio della transizione diciamo della transizione allora una cosa su cui abbiamo lavorato e stiamo lavorando tantissimo è il fatto che gli utenti non si debbano scocciare anzi tutti quelle che sono le potenziali pubblicità sono pubblicità che interessano agli utenti addirittura daremo la possibilità agli utenti di dire se in un momento vogliono o non vogliono ricevere informazioni pubblicitarie però quando un utente deciderà di ricevere informazioni pubblicitarie l'efficacia di quella pubblicità sarà elevatissima perché per quale motivo perché in realtà ad esempio se uno utilizza Facebook o anche utilizza Google è tempestato da messaggi pubblicitari cioè c'è Facebook Ads che è in tutte le pagine quando utilizziamo Facebook e Google AdWords che è in tutte le ricerche di Google no? ok che cosa succede? che Facebook in realtà il modello di pubblicità a pay per click di Facebook è molto debole perché anche se ha tantissime visualizzazioni di pagina in realtà colpisce le persone anche se in modo molto profilato però in un momento in cui la gente non gli frega proprio niente di vedere quelle pubblicità e quindi fondamentalmente io sto su Facebook a parlare con una mia amica o con gli amici sto organizzando la serata sto facendo i cavoli degli altri se mi vedo la pubblicità di un aspirapolvere di lato evidentemente non è quello lì il momento in cui lo vorrò comprare e in effetti non funziona tanto bene Google che fa più o meno le stesse page views di Facebook in realtà fa oltre più di dieci volte il fatturato che fa Facebook con pay per click perché? perché anche se è meno preciso in realtà colpisce le persone quando loro cercano quello che vogliono comprare cioè se io cerco una cosa su Google è perché effettivamente mi interessa e quindi c'è una buona possibilità che io voglia comprarla Narumi potrà unire tutte queste due cose nel senso che il momento in cui tu esattamente vuoi stai cercando e vorresti comprare una cosa e in più la grande profilazione che noi possiamo avere perché conosciamo quelli che sono i tuoi interessi e le tue passioni ok si può già usare? scusami non ti ho detto però la tua domanda non ti ho risposto perché purtroppo sono partito per la tangente la risposta alla tua domanda è ci saranno dei pop up che ti appariranno con le offerte in modo poco invasivo e solo quando vorrai riceverli con le offerte che speriamo effettivamente combaceranno con quella che sarà la tua esigenza quindi nessuno discorcerà di tempestera di messaggi anzi tutto il contrario una cosa che non ti ho detto che è fondamentale Narumi è un'app tra l'iscrizione c'è la registrazione e iniziare a usarlo ci vogliono 30 secondi è un micro pulsantino che apparirà sui browser più diffusi quando tu vuoi attivarlo lo premi e appare un doc tipo quello della Apple nella parte in basso e ti dà accesso fondamentalmente a tutte le funzionalità se vuoi puoi quando vuoi trasformare una pagina in una pagina social dalle grandi potenzialità sociali e quindi attivare al 100% tutte le funzioni puoi premere un pulsante su questo doc che crea un overlay sulla pagina come una sorta di carta velina su cui tu puoi scrivere lasciare i commenti chattare con chi è online e soprattutto puoi aggregarti o dar vita a quelle famose communities globali di gente interessante che si vuole conoscere perfetto si può già usare quindi? adesso è in una versione privata però anzi io invito tutti è una grandissima occasione questa qui a iscriversi su narumi.com per il beta testing quindi uscirà entro la fine del mese verosimilmente una versione buona la testeremo con speriamo parecchia gente e dopo di che cercheremo di andare in pubblico insomma sicuramente entro la fine dell'estate perfetto Riccardo ti ringrazio davvero tantissimo di essere stato qui con noi stasera grazie a te anche perché non l'abbiamo detto ma in realtà per me sono le sei di pomeriggio ma per te in Italia è mezzanotte passata quindi grazie a te di grazie a te grazie a te